Ciao, il tuo nome? Costanzo. Ciao, io sono Fabrizio, ti farò il video. Colombo! Salta con me? Esatto. Ci ricordiamo di aprire? Lui è il tuo pilota tandem, quindi posso assicuro. Che facciamo oggi? Ci proviamo a lanciarsi. Ci proviamo? Dai che ci riusciamo. Sei pronto? Spero. Dammi il 5, ci vediamo in aereo, a tono. Ok, a tono. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.